Ben ritrovati a tutti quanti qui su F1 in generale dove andiamo a commentare, analizzare tutte le giornate del weekend di gara di tutti quanti i gran premi di Formula 1 del 2024 quindi non dimenticatevi di iscrivervi per non perdere nessuno di questi bellissimi video e di tutte quante le notizie della Formula 1 Si è appena conclusa la gara di Imola finita in un modo differente da quello che ci saremo aspettati negli scorsi giorni con un Max Verstappen veramente forte su una Red Bull che comunque è stata molto sottotono molto sottotono anche per Perez che commette un errore, già partiva indietro e finisce ancora indietro non riuscendo comunque a recuperare terreno in gara anche magari per una strategia un po' sbagliata che andava ad aspettare quella che è una safety car che poi non è arrivata anche se tutti quanti ce la saremmo aspettata visto quello che è successo anche nelle categorie propedeutiche alla Formula 1 gara che a inizio settimana ci saremmo aspettati bagnata ma che in realtà è stata asciutta, normalissima e con anche parecchio caldo questo comunque ci ha dato modo di vedere come anche in una gara canonica come quella che è stata oggi ci siano stati dei valori in campo ben diversi rispetto all'inizio del campionato e che questa sta diventando una Formula 1 e un 2024 veramente molto divertente e entusiasmante questa gara si è conclusa con un solo ritirato Alexander Albon che durante il suo primo pit stop ha avuto un problema con una gomma che non sono riusciti a fissarla nel modo corretto e ha perso tantissimo tempo perché ha dovuto rientrare e fare un altro pit stop oltre a questo gli è stata data anche una penalità per un unsafe release perché la macchina è uscita dalla pit lane non in sicurezza si sono trovati talmente tanto lontani al prima della fine della corsa che hanno deciso comunque di ritirare la macchina magari per preservare power unit e il quant'altro Fernando Alonso non ha performato bene anche se partiva dalla pit lane per andare a fare delle modifiche all'assetto arrivato diciannovesimo con davanti Bottas, Sargent, Gasly, Ju, Ocon, Ricciardo sedicesimo, Magnussen dodicesimo, Hulkenberg undicesimo quindi comunque per ora si sta confermando sempre una grandissima ass nel midfield e o anche un'altrettanto buona Racing Bulls perché Tsunoda si porta a casa un altro punto che per una scuderia come Racing Bulls in un campionato del genere fa sempre sempre comodo complimenti comunque a Tsunoda che sta guidando veramente veramente bene in questa parte di campionato chi sta andando un po' peggio è comunque Aston Martin che nonostante gli aggiornamenti portati ritroviamo un Lance Stroll in nona posizione come dicevamo anche Perez non è riuscito a performare bene per l'errore che ha fatto e anche per una qualifica non ottimale George Russell settimo, Lewis Hamilton sesto che ha fatto tanti errori a Hamilton in questa gara non si trovava probabilmente a suo agio con la macchina è riuscito a portarsi davanti Russell perché alla fine dei conti non è stato così malvagio come passo gara a Hamilton Sainz quinto, Oscar Piastri quarto che nella prima parte di gara era veramente veloce dopo andiamo a vedere anche Piastri e Sainz con i passi gara ma veramente bravo Piastri ha guidato molto bene una McLaren che a questo punto mi verrebbe da dire che potrebbe essere veramente arrivata al livello di Red Bull Red Bull che comunque è sempre stata in difficoltà in questa gara ma che poi è riuscita a sistemare prima della giornata di sabato Leclerc in terza posizione abbiamo visto come era comunque deluso Norris in seconda posizione come abbiamo già detto e Verstappen, una cosa particolare che non si vede qui da questa classifica è che Norris è arrivato con 7 decimi di ritardo da Verstappen praticamente attaccati Lando ha corso una seconda parte di gara velocissima è sempre stato il più veloce in pista recuperava un secondo, 8 decimi, 7 decimi al giro a Verstappen che è un'eternità dopo un momento di paura che magari non riusciva a trovarsi così bene con la macchina dopo la sosta perché Leclerc si pensava potesse andare a attaccarlo Leclerc poi ha commesso un errore nella variante alta e quindi poi ha perso un po' di contatto e è rimasto indietro Norris sicuramente meritatissimo il voto come pilota di giornata sta dimostrando veramente tantissimo non che ce ne fosse bisogno per noi ma veramente forte soprattutto con l'arrivo in volata su Verstappen andiamo ora a vedere nel dettaglio quelli che sono stati i passi gara dei primi 5 piloti di questa gara tutti quanti con la stessa identica strategia chi si è fermato prima, chi si è fermato dopo ma la sostanza è rimasta quella vediamo come prima del pil stop Verstappen con la linea blu era molto più veloce rispetto ai suoi competitors e come velocità, come passo gara Norris è stato il secondo più veloce è andato veramente molto bene cosa che si è ribaltata poi una volta fatto il primo e l'unico pil stop della gara all'inizio Norris ha faticato tantissimo non è riuscito a essere così tanto incisivo andando a vedere il passo gara di Leclerc rispetto a Norris c'è stato un momento in cui si sono avvicinati veramente tanto da qua si vede sicuramente meglio il passo di Leclerc e Norris è stato molto simile fino praticamente al giro 48 barra 50 dove in questo punto preciso Leclerc fa un errore arriva lungo alla Gresini e poi da lì non ha più avuto il ritmo per stare con Norris però comunque in una prima parte dopo la sosta i tempi erano molto vicini e molto spesso se non nella maggior parte dei casi Leclerc era più veloce di Norris non di tanto, si parla di un decimo e mezzo barra due tanto al punto di far sì che Leclerc potesse pensare di attaccare Norris attacco che non è mai avvenuto per l'errore come abbiamo detto e poi nella seconda parte dopo l'errore Norris ha tirato fuori un passo mostruoso dove andava a dare veramente a Norris 8 decimi, 5 decimi è andato molto molto forte da qui vediamo ancora di più che la differenza di passo gara tra Norris e Verstappen come Norris sia stato esageratamente veloce e performante sempre dal giro 47-44 in poi dava delle botte dei tempi a Verstappen esagerato e è per questo che è riuscito ad arrivare molto vicino all'olandese probabilmente con due giri in più avrebbe potuto tentare un attacco poi non è mai facile sorpassare Verstappen però sicuramente è stato molto molto vicino con questo grafico come vediamo anche dal titolo è stato la differenza media di passo gara da Norris quindi colui che ha avuto il passo gara più veloce Verstappen molto vicino, 19 millesimi poi Leclerc che si è trovato a un decimo dal passo gara di Norris Norris che ha fatto comunque anche la differenza su Piastri che si trova con due decimi di differenza quindi Ferrari come ne esce da questo gran premio dopo che aveva così tante aspettative secondo me il problema è semplicemente stato le aspettative stesse perché ok va bene tutti quanti bei rumor che potevamo dire potevamo comunque anche raccontare sulla versione B dell'SF24 i scontri in pista non ce ne sono stati quindi è stato creato magari un po' troppo hype un po' troppo aspettativa dietro questa macchina che per ora non è stata confermata ma attenzione non è detto che non verrà mai confermata ricordiamoci che McLaren ha avuto anche una gara in più magari per sistemare bene il setup per capire cosa funzionasse realmente o meno Ferrari deve probabilmente ancora arrivarci alla maturità del progetto come è adesso McLaren sicuramente lo step in avanti c'è stato perché il degrado gomma di Ferrari è stato ottimo sia con la gomma gialla che con la gomma bianca poi abbiamo visto ieri che con la gomma rossa non ha performato benissimo però uno step in avanti sicuramente è stato fatto arrivando a soli 7 secondi da Verstappen cosa che magari in una gara normale prima non sarebbe mai accaduto McLaren che con i suoi aggiornamenti è riuscito a ridurre il drag e quindi a portare un top speed migliore cosa che per ora magari con Ferrari ancora non abbiamo visto Mercedes è saldamente quarta forza dato che comunque Aston Martin sembra abbastanza in crisi con questi nuovi aggiornamenti bisogna un po' vedere se anche loro piano piano riusciranno a sviluppare comunque è bellissimo rivedere dopo tanto tempo una gara con così poco distacco tra il primo e il secondo e anche il terzo quindi ricapitolando quello che abbiamo imparato in questo Gran Premio McLaren la più veloce in assoluta di 20 millesimi rispetto a Red Bull e a questo giro Verstappen non aveva il fondo danneggiato Ferrari che si trova a 10 Ferrari che si trova a un decimo rispetto al passo di McLaren è a 80 millesimi da Red Bull è qualcosa di sensazionale io non smetterò mai di dire quanto sono gasato per questo campionato per la forma che sta prendendo questo campionato ottimo, veramente spettacolare un'altra sottigliezza che volevo far notare è la differenza di passo che c'è stata tra Sainz e Leclerc che è stata di due decimi e mezzo a favore di Leclerc e tra Perez e Verstappen che è stata di sette decimi a favore di Verstappen in questo momento Charles Leclerc è salito secondo nel campionato mondiale piloti vedremo poi la classifica come cambierà nelle prossime gare e anche poi con i costruttori perché ne vedremo assolutamente delle belle c'è una lotta tra McLaren e Ferrari infinita non vedo l'ora che arrivi direttamente Monaco e le altre gare io vi ringrazio ancora per essere stati qua ad ascoltare la nostra analisi vi ricordo di seguirci per non perdervi nessun tipo di aggiornamento sulla Formula 1 e noi ci rivediamo come sempre all'analisi per il Gran Premio di Monaco buona settimana a tutti quanti